Anche gli olivi salentini, oggi provati da una minaccia alla cui origine non è ancora certa, saranno traino dell'agricoltura pugliese. Lo garantisce Cosimo Durante, presidente del GAL Terra d'Arneo, che ha partecipato a Leverano alla conferenza su opportunità, lavoro e sviluppo del sistema agricolo e agroalimentare, svoltasi nella sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo. L'obiettivo del GAL Terra d'Arneo, che ha organizzato l'incontro, è quello di volgere in positivo le situazioni critiche. Vorremmo che questi nostri bei monumenti, questa espressione di cultura e cultura, non debba mai venire meno. In questa zona ci sono olivi che per certi versi noi ci dicono che hanno più di 500-600 anni. Sarebbe veramente un peccato vederli morire e su questo ovviamente faremo la nostra parte. Buoni propositi dunque anche in prospettiva di migliorare o creare rapporti commerciali nel bacino del Mediterraneo, così come conferma Ugo Patroni Griffi, presidente della Fiera del Levante. Si è parlato sempre di Puglia come corridoio sul Mediterraneo, del resto anche la parola Fiera del Levante indica qualcosa in questo senso. Alla luce degli eventi e degli stravolgimenti nel Mediterraneo geopolitici, si continuerà a investire in questa direzione? Ci sono dei movimenti che vanno approfonditi e valorizzati. Grandi investimenti che stanno facendo delle società straniere, soprattutto o del nord, Svizzera, Olanda, Germania. Oggi la notizia della Jetrak che investe ancora in Puglia, ma anche investimenti che possono arrivare dal vicino Oriente, dal lontanissimo Oriente. Fra poco parte un collegamento diretto da Bari con la Turchia, che non è il volo turistico, ma diventa la possibilità di affrontare, tramite un hub in Medio Oriente, tutto il mercato del lontano Oriente, quindi dal Singapore, la Cina, l'Australia e via dicendo, che è un mercato assolutamente recettivo per i nostri prodotti. Con l'Africa e il Nord Africa si dialogherà? L'Africa e Nord Africa sono dei paesi amici con cui già noi dialoghiamo. Ci sono già anche nell'olivicoltura intensi rapporti commerciali e molti prodotti che vengono dalle regioni dell'ex Maghreb e vengono trasformati in Puglia. Il legame con paesi tipo la Tunisia, la Turchia, l'Egitto, ma anche la Libia è un legame molto forte e antico. Chiaramente gli sconvolgimenti geopolitici hanno in qualche misura rallentato il traffico commerciale, ma io sono convinto che la razionalità di chi abita quei territori e quindi l'obiettivo di progredire economicamente insieme prevarrà sull'insensatezza del terrorismo.